Buongiorno a tutti, sono Giorgia, Account Manager in Mail App. In questo webinar andremo a vedere le principali funzionalità della console e le nuove funzionalità della release 8.7. Quando accediamo in console troviamo queste 5 voci di menu, ovvero messaggi. Ci dà la possibilità di scegliere attraverso quale canale di invio andare a creare ed inviare le nostre comunicazioni. Il menu Statistiche, o per singolo iscritto, o per singolo canale di invio. Il menu Destinatari, che riguarda tutto ciò che appunto concerne il database. Marketing Plus, con una serie di funzionalità avanzate come i filtri e l'invio automatici. E il menu Configurazioni. Dal menu Configurazioni possiamo andare a suddividere la nostra console mail app in liste. Le liste sono degli ambienti di lavoro separati, nei quali possiamo appunto suddividere la nostra piattaforma. In questo menu in alto a tendina vediamo in quante liste è stata suddivisa questa console. Perché andare a creare più liste? Ad esempio perché abbiamo tipologie di invii differenti, per cui dalla lista 1 andrò a inviare email newsletter, dalla lista 2 dem, quindi email pubblicitare. La lista 3 la lascerò per le email transazionali del mio e-commerce. Oppure perché sono un'azienda che lavora con mercati internazionali e quindi dalla lista 1 usciranno le mie comunicazioni per il mercato inglese, dalla lista 2 quelle per il mercato francese o dalla lista 3 quelle per il mercato spagnolo. O ancora potrei essere un'agenzia e suddividere la mia console in base ai miei clienti. Quindi le liste sono degli ambienti di lavoro completamente separati, ogni lista avrà il proprio elenco messaggi, i propri iscritti e quindi le proprie metodologie di iscrizione e disiscrizione e le proprie proprietà. Le uniche due cose che condividono tutte le liste sono i campi anagrafici, mail app mette a disposizione 41 campi anagrafici, 39 dei quali sono modificabili. I due che non sono modificabili sono l'email e il numero di cellulare in quanto costituiscono l'identificativo del singolo iscritto, del singolo destinatario. Quindi le uniche cose che hanno in comune tutte le liste sono i campi anagrafici e coda di invio. Per andare a creare una nuova lista andrò in configurazioni, gestione console, gestione liste. Troverò a sinistra l'elenco delle liste già esistenti, le stesse liste che posso trovare in questo menu a tendina. E a destra avrò la possibilità di andare a creare una nuova lista. semplicemente dando un nome alla lista stessa e andrò ad attribuirne alcune proprietà. Ad esempio andrò a categorizzarla, per cui mi verrà chiesto che tipologia di invii vorrò effettuare da questa lista. I miei destinatari, quindi B2C, B2B o entrambi. E il mio settore merceologico di appartenenza. Questa è una voce molto importante e lo vedremo più tardi quando andremo ad affrontare le statistiche. Andiamo a definire un nome emittente per le comunicazioni che usciranno da questa lista e un'email emittente ed un reply to che dovranno essere due indirizzi validi. Verrà infatti chiesto di verificarli. Sempre per lista possiamo andare a scegliere la tipologia di disiscrizione con un click, con conferma, con conferma da più liste, con opzioni oppure un rimando al centro gestione profilo. Una volta impostate queste proprietà andrò a salvare la mia nuova lista. Le proprietà della lista posso gestirle anche da configurazioni, impostazioni lista, proprietà. Qua in altro avrò anche la possibilità di andare a impostare la testata per tutte le comunicazioni che usciranno dalla lista 1 e il piedi pagina, sempre per tutte le comunicazioni che usciranno da questa lista. Andiamo ora a vedere l'importazione di una base dati, la creazione di un messaggio e l'invio. Per importare una base dati basta andare sul menu destinatari, importazione e andare a scegliere la tipologia di file che vogliamo andare ad importare. Normalmente il file più diffuso per l'importazione è il file Excel. Quando si va ad importare un file di questa tipologia è necessario che sia il più pulito possibile, quindi che non abbia filtri, formule, celle colorate e verrà importato o il foglio di lavoro che rinominerete List oppure il primo foglio in ordine alfabetico. Seleziono quindi Importa Excel A questo punto avrò tre passaggi. Dovrò andare a caricare il mio file, avrò la possibilità di inserirlo in uno o più gruppi e poi andrò ad associare i campi, quindi le celle del mio file Excel, con i campi anagrafici della console Mail App. Seleziono il mio file e clicco su Avanti. A questo punto ho la possibilità di inserire la mia base dati o nell'elenco dei contatti della mia lista e quindi non andrò a inserirla in uno di questi gruppi ma cliccherò semplicemente su Prosegui oppure potrò inserirla in uno o più gruppi oppure creare un gruppo ex novo. Che cos'è un gruppo? Un gruppo è un microcontenitore nel quale posso suddividere la mia lista quindi avrò la mia console Mail App che posso suddividere in diversi ambienti di lavoro separati che si chiamano Liste e in ogni lista potrò andare a creare dei microcontenitori quindi i gruppi. In questo caso decido di importare il mio database nel gruppo Webinar che avevo già precedentemente creato e clicco su Prosegui. Andrò quindi ad associare i campi anagrafici della mia console con i campi del mio file Excel quindi Mail con E-mail Nome con Nome Cognome con Cognome Azienda Potrei anche decidere che il campo Codice fedeltà del mio file Excel non mi serve per le mie campagne di E-mail Marketing o per le mie campagne SMS per cui decido di ignorare questa voce e di non importarla. Seleziono Ignorare la prima riga per non importare due volte Cognome con Cognome Nome e Nome eccetera e clicco su Avanti A questo punto confermo e inizio l'importazione Durante la fase di importazione avvengono automaticamente tre operazioni che sono la verifica dei disiscritti la deduplica di indirizzi doppi e il controllo delle mail sintatticamente errate clicco su Aggiorna e ora non sarò più in importazione ma sono in stato importazione e nello specifico la mia importazione è completata per vederne i dettagli andrò su Azioni Dettagli e mi verranno elencate le righe elaborate quelle valide, quelle non congrue, quelle non valide nello specifico le mie mail sintatticamente errate le ritrovo tra le mail non valide cliccando su questo valore avrò un elenco degli indirizzi sintatticamente errati che potrei andare ad esportare, correggere e reimportare in piattaforma vediamo ora come si crea una comunicazione e-mail quindi andrò su Messaggi e-mail nuovo ci troviamo di fronte a due possibilità utilizzare il nuovo editor drag and drop B che mi consente di creare comunicazioni già ottimizzate per mobile senza dover conoscere il codice HTML oppure posso utilizzare il classico editor What you see is what you get che mi consente di creare una comunicazione a partire da una pagina nuova da uno dei modelli presenti da un file ad esempio HTML se avessimo qualcuno che ci appunto passa una creatività da una URL o da un feed RSS in questo webinar ci concentreremo sull'editor B quando seleziono B quando seleziono B vado a dare un titolo alla mia comunicazione posso anche utilizzare un campo note ad uso interno e una volta appunto avviato B ho la possibilità di scegliere tra dei modelli di base quindi tra questi template tra dei modelli pronti standard, e-commerce, newsletter o semplice oppure posso utilizzare delle comunicazioni che ho creato e salvato come modelli i modelli li ritroverò anche in email modelli in questo caso andrò a scegliere un modello di base ad una colonna avrò in alto la possibilità di cambiare lo sfondo per tutta la comunicazione il messaggio, quindi andare a ingrandire il messaggio relativo a tutta la comunicazione e potrò dare anche un bordo a tutta la comunicazione troverò al centro il layout che ho scelto quando passo tra un modulo e l'altro avrò questo perimetro arancione con questo pulsante posso andare a spostare il modulo su cui sono posso andare a cancellarlo con il pulsante del cestino oppure posso duplicarlo o a destra o in basso quindi come avrete intuito l'editor B si distingue si suddivide in moduli abbiamo al centro quelli relativi al layout che abbiamo scelto ma possiamo anche implementarli utilizzando i moduli che troviamo alla nostra destra abbiamo infatti i moduli di testo moduli di immagine moduli misti quindi di testo immagine e immagine testo gruppi di immagini divisori bottoni per la call to action e moduli social la prima cosa che noterò è che in questo layout manca un modulo social quindi andrò a cercarlo tra i miei moduli e andrò a selezionarlo spostarlo e rilasciarlo all'interno della mia comunicazione cliccando sul modulo a destra non avrò più l'elenco dei moduli ma le proprietà del modulo stesso posso per tutti i moduli andare a modificare lo sfondo il bordo e il margine adesso andrò a collegare la mia pagina la pagina dei miei social quindi la mia pagina facebook twitter il mio account linkedin o potrò anche andare a cancellare quelli social che non mi servono che non utilizzo che per questa comunicazione non voglio andare a collegare e ad inserire posso inoltre andare a modificare le icone quindi posso volerle colorate e non quadrate ma tonde le vorrò allineate al centro altri moduli sono ad esempio i moduli relativi alle immagini posso andare a trascinare le immagini in modalità drag and drop dal mio desktop oppure posso andare a caricarle e andare a scegliere tra le immagini che ho salvato nelle mie cartelle o per console o per lista per creare la nuova cartella basta cliccare su questa icona oppure posso andare a importarle da i miei social network come facebook instagram oppure posso andarle a prendere dal web in questo caso bisogna fare ovviamente attenzione al copyright andrò a prendere un'immagine che ho salvato nelle mie cartelle e questa immagine posso renderla linkabile quindi posso andare a scrivere la url a cui voglio che punti in questo caso la farò puntare al mio sito posso inserire un testo alternativo anche per questo modulo come per tutti i moduli di BI posso andare a modificare lo sfondo il bordo e il margine e volendo potrei andare anche a modificarla questa immagine quindi potrei andare ad applicare una serie di effetti stile instagram potrei andare a inserire delle cornici alla mia immagine oppure potrei andare a inserire degli stickers piuttosto che andare a modificarne il focus il contrasto la saturazione ed altri effetti altri moduli presenti nel nostro editor sono ad esempio i moduli di testo cliccando sui moduli di testo avremo in alto una serie di pulsanti relativi all'editor per cui una serie di font supportati dai client di posta la possibilità di inserire link e quindi di sottolineare una parola cliccando su link andremo a collegare a una url e cliccando questa freccia avremo una serie di link speciali di descrizione di iscrizione potremo andare anche a inserire campi dinamici ovvero quelle parti di comunicazione che servono per personalizzare la nostra mail i classici gentile campo dinamico che non sono altro che i nostri campi anagrafici nome un altro bottone che vedo che manca in questo layout è il bottone della call to action lo inserisco ovviamente questo bottone può essere editabile posso cambiare nel font posso ingrandire i caratteri posso andare a modificare il colore del mio bottone posso andare ad arrotondare gli angoli a ingrandirlo allinearlo in maniera differente oppure posso utilizzare una larghezza fissa ovviamente andrò a linkare il mio bottone all'indirizzo web che mi interessa a cui voglio che punti quindi una volta che ho implementato il mio layout con i moduli che trovo a lato posso andare anche a vedere un'anteprima della mia comunicazione anteprima su desktop o anteprima su mobile vado a salvare la mia comunicazione e a questo punto mi verrà chiesto nuovamente conferma sull'oggetto sul campo note avrò la possibilità di inserire dei tag i tag sono una funzionalità desunta dal mondo blog sono delle etichette che posso applicare alle mie comunicazioni e potrò andare a rendere i miei campi anagrafici dinamici e potrò attribuire agli stessi dei valori predefiniti ad esempio nel caso in cui non avessi il campo nome compilato per tutti i miei contatti voglio che esca il valore predefinito cliente e salvo per inviare una comunicazione andrò su invia andrò a scegliere il messaggio che voglio inviare e andrò su azioni potrò inviare a un gruppo di test gruppo presente di default nella nostra console che popoliamo con gli indirizzi che ci interessano potrò inviare a singoli indirizzi mail utilizzare la funzione controlla nella quale troviamo anche lo spam check quindi uno scorro un punteggio che viene attribuito alla nostra comunicazione e più è vicino allo zero meglio è quindi vuol dire che avrà più probabilità il nostro messaggio di arrivare nella posta recapitata oppure potrò andare in a selezionare la voce di menu scegli destinatari scegli destinatari la voce vera e propria di invio avrò un riepilogo sul mio messaggio quindi l'oggetto la dimensione la data di creazione il nome emittente e l'indirizzo emittente e poi mi verrà chiesto a chi intendo spedire se voglio spedire a tutti gli iscritti di questa lista se voglio spedire solo a determinati gruppi di questa lista se voglio selezionare manualmente oppure se voglio mandarla solo ad un indirizzo in questo caso vorrò spedirla al gruppo di test cliccando su aggiorna vedo che fanno parte otto persone di questo gruppo e cliccherò su salva e continua avrò quindi la possibilità di andare a impostare un invio programmato oppure di inviarlo subito clicco su imposta l'invio programmato ora sono in stato di invio e vado a pianificarlo quindi a scegliere una data e un'ora futuri nei quali andare a inviare il mio messaggio posso scegliere anche il fuso orario di riferimento una volta che ho impostato il mio invio programmato questo orologio diventerà arancione a modi remind ogni volta che entrerò in console che sarò in console volendo poter andare anche ad annullare il mio invio e in questo caso andrà tra gli invii non definiti annullati vi consiglio di o eliminarlo o ripianificarlo perché altrimenti questo invio andrà in coda e poi partirà in questo caso lo elimino un'altra funzione relativa all'invio molto interessante non è dal pulsante azioni come abbiamo visto poco fa ma è tramite l'invio dell'Abitest inviabitest è una funzionalità che mi consente di comparare due tre quattro versioni dello stesso messaggio ed inviare quella più performante andrò a dare un titolo al mio Abitest e andrò a scegliere due varianti della mia comunicazione le varianti potrò sottoporle a un campione che andrà dal 30% al 5% dei miei invii dei miei destinatari in questo caso ho scelto di comparare la comunicazione webinar a mail app webinar quindi sono due comunicazioni che hanno un oggetto differente e infatti i criteri di vincita possono essere o il miglior tasso di apertura e in questo caso andrò a lavorare su un oggetto diverso quindi sul copy del mio oggetto oppure il miglior tasso di click e in questo caso andrò a lavorare sulla mia CTA sulla mia call to action in termini grafici in termini di copy in questo caso appunto hanno un oggetto diverso quindi andrò a selezionare il miglior tasso di apertura e dirò di inviare o automaticamente dopo n ore la comunicazione vincente tra queste due al restante 80% dei destinatari oppure potrò andare a spedirla io manualmente quindi la di test serve per comparare due versioni di una nostra comunicazione di una nostra email scelgo io a quanti contatti andare a sottoporla in base ad un criterio di vincita che può essere il miglior tasso di apertura o il miglior tasso di click abbiamo quindi visto l'importazione di un database la creazione di un messaggio l'invio andiamo quindi a vedere alcune funzionalità avanzate di Marketing più Marketing più ci consente di andare a creare dei filtri o per anagrafica quindi ricercando tra i campi anagrafici dei valori o per attività quindi su azioni che i nostri destinatari possono o non possono avere compiuto ci sono inoltre filtri geografici filtri per dispositivo e filtri per sistema operativo andiamo a vedere i filtri per anagrafica filtri per anagrafica avremo a sinistra l'elenco dei filtri già creati già esistenti e a destra il pulsante nuovo per andare a crearne degli altri vi faccio vedere come è stato creato ad esempio questo filtro Milano ho selezionato la tipologia del filtro quindi un filtro per anagrafica ho dato un nome al filtro l'ho chiamato Milano e poi ho impostato le condizioni dello stesso quindi ho detto cercare nel campo anagrafico città che cosa un carattere un numero e se un numero un numero intero un numero decimale piuttosto che una data in questi diversi formati in questo caso voglio cercare Milano per cui andrò a inserire un carattere la regola logica sarà che il campo anagrafico città dovrà contenere un carattere per cui contiene like e nello specifico il carattere avrà appunto il valore che andrò a scrivere qui sotto quindi in questo caso Milano salvo e ritrovo il mio filtro appunto nell'elenco dei filtri per anagrafica come posso utilizzare ad esempio un filtro quando vado in destinatari elenco email opzioni avanzate di ricerca filtri posso andare a cercare tra i miei 115 destinatari tutti quelli che rispondono al mio filtro per anagrafica e vado a selezionare il mio filtro Milano e a cercare quali contatti rispondano a quel campo anagrafico a quel filtro che io ho creato oppure potrei utilizzarlo in fase di invio quando vado su messaggi email invia azioni scegli destinatari posso decidere di inviare una comunicazione a quei contatti cioè a quegli iscritti che rispondano a un filtro per anagrafica ad esempio appunto vado a selezionare il filtro che mi interessa e quindi andrò a dire alla mia console di inviare il messaggio agli iscritti di questa lista che rispondono al filtro Milano quindi posso utilizzare i filtri in fase di ricerca destinatari in fase di invio oppure tramite oppure con l'invio automatici l'invio automatico ad esempio seleziono nuovo facciamo come esempio il compleanno voglio mandare un invio automatico al compleanno dei miei destinatari quindi andrò a crearmi avrò un campo anagrafico compleanno avrò creato un filtro anagrafico compleanno e andrò a decidere la frequenza di attivazione del mio invio le condizioni del mio invio e che cosa dovrà succedere quando queste condizioni si verificheranno quindi se si tratta del compleanno il criterio di ricorrenza sarà giornaliero e vorrò che venga verificato al mattino presto per mandargli gli auguri che cosa dovrà essere verificato che sia vero il filtro per anagrafica e andrò a cercare il mio filtro compleanno e quando il mio filtro compleanno sarà verificato potrò decidere se inviare una mail mantenendo email mittente nome mittente e andare a scegliere la mail che voglio inviare oppure se inviare un sms ai miei destinatari vediamo ora le nuove funzionalità della release 8.7 andando in configurazioni impostazioni lista moduli di iscrizione abbiamo tre novità il bottone di iscrizione quindi la possibilità di creare un bottone che linki a un form di iscrizione i moduli modificabili i nuovi moduli modificabili sono moduli drag and drop quindi con la stessa logica dell'editor B basterà trascinare degli elementi e l'integrazione con i servizi padiact vediamo come creare un form di iscrizione drag and drop avremo i moduli modificabili come appunto c'erano nella vecchia release e poi la possibilità di creare un modulo di iscrizione drag and drop andrò quindi a dare un nome al modulo ad esempio iscriviti alla newsletter mail app potrei anche descrivere e dare una descrizione di questo modulo e poi vedrò alla destra una serie di appunto di moduli che possono fare parte di questo form avrò ad esempio il titolo del modulo seleziono trascino e rilascio con questa matitina posso andare ad editare il mio contenuto e quindi posso andare a scrivere ad esempio iscriviti alla newsletter e salvo posso andare ad inserire la mail questi non sono altro che i campi anagrafici cioè quelli che compileranno i nostri destinatari sono i campi anagrafici che avrò in console e quindi ad esempio la mail so che è un campo non modificabile in quanto fa parte dell'id quindi è un campo obbligatorio e quindi lo selezionerò come campo richiesto potrò anche inserire un segnaposto quindi andare a dire inserisci la tua mail oppure inserisci qui la tua mail e anche scrivere una descrizione quindi quando invii il modulo controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione salva avrò anche la possibilità di inserire il campo richiesto relativo al numero di telefono oppure il campo modulo il campo modulo potrei utilizzarlo ad esempio per andare a compilare il campo anagrafico nome e quindi andare a chiamarlo nome il segnaposto posso andare appunto a scrivere scrivi il tuo nome e anche ad aggiungere una descrizione quindi posso andare a scrivere inserisci il tuo nome e posso metterlo come campo obbligatorio il menu drop down e il menu bottoni radio ci consentono di andare a proporre a fare sì che il nostro destinatario compia una scelta singola tra diverse opzioni ad esempio potrei andare a chiedere la città quindi selezionerò il campo anagrafico città e scriverò come etichetta città andrò ad aggiungere una descrizione ovvero andrò ad aggiungere seleziona la tua città e andrò a fare un elenco di opzioni tra le quali potrà scegliere una sola alternativa per cui Milano Roma Firenze eccetera questo non voglio che sia un campo obbligatorio e salvo semplicemente checkbox invece mi consente di effettuare scelte multiple posso anche scegliere a quali liste e a quali gruppi fare iscrivere il mio contatto ovviamente le liste e i gruppi sono le uniche due voci che non si riferiscono ai campi anagrafici inserisco un bottone di invio ovviamente anche qui posso andare a modificare la mia etichetta e a questo punto posso andare a scegliere lo stile del mio modulo blu nero grigio verde posso vederne un'anteprima ottenere il codice html o un link oltre ai moduli di iscrizione abbiamo la possibilità di andare a generare un bottone di iscrizione anche qui in maniera molto semplice selezionando uno stile inserendo un bottone quindi andiamo a editare il nostro bottone e andando a scegliere a quale modulo di iscrizione dovrà puntare quindi il bottone sarà sul nostro sito e cliccando su questo bottone si arriverà al modulo di iscrizione ad esempio italiano telefono più email anche qui abbiamo la possibilità di copiare il codice html o di avere un link l'ultima novità inerente la versione 8.7 concerne Padiact quindi è possibile legare i nostri moduli di iscrizione ai siti ad esempio agli e-commerce e decidere quando dovranno essere visualizzati dal contatto che sta navigando il sito stesso l'ultima cosa che andrei a vedere in questo webinar sono le statistiche le statistiche possono essere o per singolo messaggio quindi andrò su statistiche email azioni report riassuntivo e andrò a vedere l'andamento di una comunicazione specifica avrò quindi la percentuale di aperture totali ed uniche di click totali ed unici di errori e di abusi avrò dei grafici e dei dati questi dati sono cliccabili e posso andare a vedere il singolo fino a 90 giorni dopo 90 giorni avrò i dati ma in forma aggregata posso quindi vedere le mail inviate quelle effettivamente arrivate in inbox quindi recapitate e quelle ritornate posso vedere lettori con immagini senza immagini il tracciamento dei link quindi i miei cliccatori il tasto di reattività quindi quello che è stato fatto con il mio messaggio l'inoltri le condivisioni chi ha avuto problemi di visualizzazione o ha segnalato come abuso e i disiscritti e posso vedere i bounce quindi gli errori soft bounce quindi errori temporanei come autorisponditori casella piena eccetera tutte le statistiche di mail app sono stampabili ed esportabili sono aggiornate in tempo reale sono visionabili i dati sul singolo fino a 90 giorni posso andare anche a confrontare l'andamento delle comunicazioni di una lista in un arco temporale che può andare da 2 3 6 fino a 12 mesi e posso andare quindi a vedere lo storico cioè l'andamento delle comunicazioni di questa lista analisi e confronti è molto interessante perché mi dà il giorno e l'ora migliori per le mie aperture totali uniche e per i clic e i giorno e l'ora peggiori per i miei invii basandosi ovviamente sullo storico degli invii fatti un'altra voce molto interessante nelle analisi e confronti è il fatto che confronti le mie performance le mie conversioni con un benchmark di settore e con un benchmark globale quindi quando all'inizio nella lista abbiamo specificato il nostro settore merceologico di appartenenza in questa sezione delle statistiche quindi in statistiche email analisi e confronti possiamo vedere se ad esempio le nostre performance sono minore minori rispetto a quelle degli altri clienti mail app del nostro stesso settore quindi quando comparirà questo triangolo potremo andare a vedere tramite l'aiuto come ad esempio aumentare lettori totali qui andremo a vedere una serie di consigli di email marketing l'ultima tipologia di statistiche sono i report aggregati i report aggregati ci consentono di comparare comunicazioni di liste differenti quindi se in tutti i messaggi vedevo l'andamento di una comunicazione specifica se in analisi e confronti potevo vedere l'andamento delle comunicazioni di una lista con i report aggregati posso confrontare comunicazioni di liste differenti mi verrà inoltre data una URL e una password che potrò dare all'esterno per far visionare queste statistiche statistiche stampabili ed esportabili grazie a tutti per avere partecipato a questo webinar ora proseguiamo con le domande grazie a tutti